Dovremo scappare! Ok, scappiamo ragazzi, eh! Venga, guarda, guarda! Sono morto! Che cazzo guardi? Ti aiuto, io ti aiuto! Alzati! Alzati, vai! Non ti viri! Non ti corri! Non ti corri! Non ti corri! c'è ragazzi scappiamo 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 ok sarà per tutto ragazzi siamo arrivati abbiamo finito il video è stato faticoso ragazzi è durato solo un minuto sì però forza te è una guardia difficile ciao